Primo 25 Seconda sfida Dopo l'eliminazione di Fantone Parti Fa un po' effetto vedere la corsia centrale vuota Il primo ad essere eliminato però è stato proprio lui, Fantone Vediamo sempre Guagliani un po' in testa Chiude proprio lui davanti a tutti con 26.64 E se abbiamo avuto la corsia a sei a Manali